ciao ciao benvenuti bentornati sul canale sono sempre jessica allora dato il successo che ha avuta questa postazione il video precedente non è vero non è vero perché sto registrando prima di pubblicare quel video la però insomma presumo che questa è una postazione che può piacere per cui anche perché è luminosa per cui ho pensato sia bene anche registrare qualche volta qua perché no per cui questa è la seconda parte delle letture del mese di di marzo ecco la seconda parte come vedete bella corposa ma davvero dato che i miei video non sono molto visualizzati io non so qual è il motivo forse non sto antipatica io non lo so soprattutto questa tipologia sul mio canale non è molto molto vista per questo valutando se farla più e allora voi direte ma allora quando ci mostri le letture cioè come ne parli magari man mano che finisco un libro stavo pensando non lo so ditemi voi quale potrebbe essere la soluzione perché non non è visto non è le al via quelli degli altri canali sì il mio no vabbè direi di comunque polemica a parte direi di iniziare subito vi parlo di un audiolibro che ho terminato nel mese di marzo ed è la casa del sonno è la casa del sonno è stato il mio non mi ricordo il nome dell'autore perdonatemi ma in realtà di questo libro vi dovevo parlare nel precedente video ma mi sono dimenticata perché l'ho terminato proprio i primi mesi di marzo e abbiate abbiate pazienza comunque è stato un ascolto molto molto piacevole due linee due linee temporali diverse la casa del sonno era è stata diciamo secondo me un escamotage per parlare di altro di realtà di quello che accadeva nella nelle strutture scolastiche anni anni fa l'autore è un autore inglese si percepisce benissimo si capisce benissimo perché c'è del humor anche un po inglese mi è piaciuto veramente tanto e non pensavo tra l'altro molto scorrevole è la storia di prende veramente mia mia appassionata mi è piaciuto tanto fatemi sapere se l'avete tante volte letto direi di andare avanti con i libri che ho invece letto io personalmente così come si come si dice allora nessuno è innocente di filippo gatti edito a fiori vedrete è un altro libro di questa casa editrice è stato un un arrivo è un invio è stato l'ultimo libro che ho letto nel nel mese di marzo allora questa per me è stata una una scoperta pazzesca filippo gatti tant'è che ho recuperato anche un altro suo testo perché perché sospettavo che potesse piacermi e così è stato l'autore è romano è più giovane di me ma basta appunto che sia romano romanista peccato ma nessuno è perfetto va benissimo anche così comunque a parte gli scherzi mica tanto comunque è un è un noir bello tosto io se avete letto mai morozzi andromeda libro che io ho amata la follia questo gli va veramente molto molto vicino non mi soffermo tanto sulla trama perché i noir i thriller i vari sottogeneri secondo me non devono essere troppo spoilerati cioè non bisogna parlare troppo della trama ma di quello che ti ha trasmesso cioè io chiuso questo libro dicendo ok benissimo questo autore avrà del successo perché è stato veramente un colpo un colpo proprio allo stomaco è abbastanza crudo bello tosto perché si parla anche di quello che può fare quello che può portare il bullismo è dove si può arrivare dove può arrivare una mente umana per vendicarsi di quello che ha subito quando era piccolo mettiamo mettiamo così non voglio dire troppo perché libro va letto complice anche un font devo dire discreto font medio ma in linea larga leggibilissimi capitoli sono brevi ragazzi miei il libro questo libro si divora bellissimo recuperatelo perché ne vale assolutamente assolutamente la la pena come ne vale la pena di leggere un libro poi consigliato da lansdale quindi se conoscete un pochino i miei gusti sapete che io amo john lasley un autore molto poliglotta poliedrico ha scritto il mondo ha scritto tantissimo libri belli toss libri un po più leggeri come quella ad esempio di apple e e e non me lo ricordo l'altro io non l'ho letta quella saga lì perché per me è un po troppo splatter è un po troppo anche stupidina invece ho letto altro di suo mi piacevo tantissimo lui ha creato una collana è tutta dedicata ai suoi libri preferiti diciamo no tra cui quello che ho sono riuscita a prendere io usato a trovare io usato da di braccio ed è omicidio a roadhouse di james ross allora è un bel mattone come potete vedere di giulio edito giulio perrone io l'ho letto in tre giorni ragazzi miei un libro di quasi 500 pagine ma un libro che si divora dico la verità questo può essere un libro anche letto dai maschietti perché c'è tanta avventura c'è tanta suspense ma soprattutto può essere letto da chi come me è amante del genere country noir country country western ma fino a un certo punto perché non ci sono cavalli non non ci sono sparatori e niente di tutto questo ma c'è un omicidio c'è un uomo che un contadino che che lotta per riavere la propria terra terra che poi verrà ovviamente messa all'assa e che fa cambia vita per cambiare vita decide di lavorare in un roadhouse i roadhouse altro non erano che le stazioni di servizio da adesso praticamente le classiche le semplicissime stazioni di servizio quindi quelle che hanno il bar all'interno quelle che ti offrono quindi non solo il caffè il classico caffè ma anche ti possono anche far mangiare le classiche stazioni di servizio decide di lavorare lì ma lavora per un personaggio losco un personaggio che farà che avrà dei debiti e condurrà lo stesso protagonista in un mare di guai veramente bello avvincente costa 22 euro mi sembra 20 o 20 non 20 euro io l'ho trovato sui braccio scontato al 60 per cento se non erro ancora si trova scontato quindi se volete un'avventura leggere veramente un libro che vi terrà col fiato sospeso fino alla fine bello prendetelo un po giulio perrone è una garanzia io l'adoro quella casa editrice acquisto molto spesso i loro testi poi veniamo una mezza delusione grossa delusione perché questo libro l'ho cercato chi mi ha seguito su instagram lo sa la vicenda io seguivo questo libro da tempi immemori dall'uscita è uscita gennaio del 2023 e io lo volevo ma è un libricino così sottile per 140 pagine ora se non se non erro piccolissimo costava 17 euro non lo trovavo sono riuscita a trovarlo su vinted a 7 euro lo lasci lì no quindi l'ho trovato l'ho l'ho preso è arrivato l'ho letto in un nanosecondo e in un giorno e mezzo mi sembra su per giù perché è veramente molto leggibile è molto godibile jessica farci vedere il libro di cui stai parlando perché non abbiamo capito niente il tornatore di sonno di karen di karen russell per sur potete vedere un libro veramente sottilissimo poi scritto in maniera meravigliosa font medio grande in tre linea larga i capitoli sono veramente molto brevi è una sorta di distopico una distopia il mondo si ritrova ad essere invaso da un'epidemia di insonnia e tanti muoiono non dormendo non dormendo per niente per diverse settimane mesi si muore molte persone bambini donne bambini muoiono accade cosa accade che una bambina chiamata a la piccola a una neonata come se fosse ignoto uno diciamo ha la capacità tramite la donazione del suo sonno di far sopravvivere e di aiutare quindi non di salvare il mondo cosa accade accade che dietro a tutto questo giro c'è ci sono come al solito i soldi il denaro e la protagonista del libro è l'unica forse che mi è piaciuta e che volevo che fosse caratterizzata un pochino di più lei ha perso quella che lavora per questa dora mi sembra che lavora per questa per questa associazione per questa sì per questa per questa ditta è come se fosse la nostra avis per intenderci lavora per questa ditta e lei ha compito di reclutare i donatori fino a che appunto non trova questa piccola a che l'unica ha un sonno molto particolare mettiamo come il nostro come il nostro gruppo sanguigno zero negativo raro e quindi riesce a salvare più persone possibili ovviamente in questi casi che succede la famiglia della piccola si allora se all'inizio erano contenti a lungo andare si oppongono perché perché la bimba verrà sottoposta a donazioni continue una o due volte a settimana verrà prelevato a lei sei sette ore di sonno rischiando anche poi di farla morire quindi potete capire cosa non mi è piaciuto non mi è piaciuto la brevità perché secondo me poteva essere strutturata in maniera molto diversa poteva farci capire molto di più la vita di di questa dora non mi ricordo se si chiami dora comunque colei che ha aiutato perché lei ha perso sua sorella per questa cosa per questa epidemia vorrei fosse stato un po più caratterizzato il personaggio a tratti l'ho trovato anche noioso e ripetitivo non mi ha convinta pienamente però sono stra contenta di essermi tolta allo sfizio e di averlo recuperato se vi piace la distopia sicuramente al libro che fa per voi forse forse nel mio caso dato che non sono molto avvezza a leggere distopici mi ha un po fatto storcere il naso come vi ho detto prima ho altri due a fiori da farvi vedere questo è di livia federico etan venner ha qualcosa da dire sempre per a fiori e sempre un font meraviglioso medio ma in linea larga ed è ben ben scritto forse non si può capire tanto dalla dalla fotocamera ma credetemi è veramente utilizza un font veramente molto accessibile molto bello come bello è stato questo libro la ragazza l'autrice è una ragazza giovanissima ha 22 anni e ha saputo buttare fuori ha saputo portare in librerì in sì nelle librerie a farci leggere un testo con delle tematiche veramente molto forti si parla di omosessualità si parla di violenza domestica etan venner altri non è che un ragazzo giovane omosessuale che vive lontano dalla sua famiglia dal proprio padre perché la mamma è morta di parto è morta mettendolo al mondo lui ha solo il padre un padre con cui non parla da più di vent'anni lui vive ormai lontano da suo padre con suo marito fino a quando un giorno cosa cosa accade accade che lo chiamano da una clinica da un ospedale dicendole che il suo padre sta per morire lui non sa cosa fare non sa se andare non andare se è giusto se non è giusto lo spinge suo marito che non è per niente a conoscenza con il marito che è all'oscuro di quello che etan ha subito da piccolo da parte del padre non vi dico nient'altro perché comunque il libro va va letto quindi non sappiamo se etan andrà dal padre non vi dico niente cosa accadrà cosa non accadrà è bellissimo è scritto veramente molto bene una scrittura molto fluida non ho dato le 5 stelle non me la sono sentita le 5 stelle perché non mi è piaciuto il finale forse per i miei gusti forse per avrei scritto un altro finale ma ne ho parlato con l'autrice lei giustamente mi ha spiegato le motivazioni che l'hanno portata a scegliere quel finale lì e va bene così ognuno però a me non non mi ha fatto impazzire tra le ultime 20 30 pagine non mi hanno così colpita però è davvero molto bello ne vale la pena 20 euro lo trovate sul sito di affiori è molto difficile trovarlo su amazon ve lo dico libri a fiori non si trovano nel facilmente nel store online ma si trovano soprattutto nel loro sito cerchiamo di aiutare le piccole case editrici è una cosa veramente che io faccio gli appelli e ne parlerò finchè potrò e veramente finchè avrò voce perché le piccole case editrici hanno veramente delle delle chicche meravigliose ad esempio sto leggendo che ho iniziato appena adesso un libro di una casa editrice non è grandissima è stata conosciuta lo scorso anno per un grande libro che ha fatto parte dello strega ha partecipato quindi al piano strega però finito quell'hype basta non se ne parla più secondo me le case editrici piccole ti ti buttano fuori delle chicche che sono meravigliose proprio delle delle cosine che sono veramente molto interessanti per cui cerchiamo di sostenere ovvio dovete sempre scegliere in base ai vostri gusti il catalogo a fiori io ho scelto qualche noir qualche romanzo ma a ve c'è per me adatto a me e ci sono eh ci sono anche dei thriller scritti molto bene dei distopici ha un catalogo molto vasto se mi ricordo vi lascio il link diretto al al sito io non non mi hanno detto niente non sono pagata non sono anzi sono io che pago che pago i libri che che leggo quindi ci mancherebbe una cosa mia e ci tengo ci tengo tantissimo marzo è stato anche il mese della lettura condivisa eh con eh tre fanciulli infatti eravamo eravamo detti i fantastici quattro eh una lettura fatta da me riga tra le righe eh Sebastiano fame di libri e eh Anna Maria non mi ricordo come si chiama un codijaymari 91 su instagram pareri discordanti devo dire perché a qualcuno è piaciuto a me sì ma con riserva comunque l'avete saputo ecco edito da codice edizioni nella casa dei tuoi sogni di Carmen Machado eh questa è una lettura appunto che abbiamo fatto condivisa personalmente l'ho ascoltata l'ho ascoltata e mi è piaciuta però eh questo libro tra l'altro è uscito diversi anni fa diversi anni fa lo volevo sempre leggere poi eh mi è stato regalato lo scorso Natale da Claudia di Sleggio di Sviaggia qua le mando un bacio grande ringrazio tantissimo eh dicevo mi è piaciuto il libro mi è piaciuto davvero però avevo aspettative un po' diverse per cui me l'ha fatto mmm ho desistito un po' a dare le famose cinque stelle perché eh non ha rappresentato appieno quello che io credevo eh ci portasse nel testo innanzitutto questo è un memoir è un memoir della stessa autrice ovviamente lei ci racconta il suo vissuto quello che lei ha passato ehm durante una relazione tossica una relazione malata con un'altra donna questo forse è la prima volta no che viene descritto un amore malato un amore ehm manipolatorio mettiamola così tra due donne eh perché la storia ci insegna la letteratura al cinema e ci insegna e ci insegna ci ha sempre fatto vedere le coppie etero eh quando si parla di ehm violenza domestica e quant'altro mh invece questa volta ci parla un'autrice appunto che lei stessa ha vissuto ehm una relazione mh malata appunto con la sua quella che era la sua compagna quella che lei appunto quella che diceva di amare ehm cosa non mi è piaciuto in realtà allora ho amato tantissimo i capitoli nel senso il titolo dei capitoli il titolo dei capitoli cadenzava cadeva sempre con il titolo del del libro ovvero eh la casa dei tuoi sogni la casa dei tuoi sogni come la casa dei tuoi sogni come e vicino un aggettivo un avverbio un qualcosa che potesse rappresentare quello che poi le descriveva all'interno di quel capitolo io come ho scritto anche nella mia recensione su Instagram è la casa dei tuoi sogni come troppo ovvero eh dentro a questo romano memoir c'è troppo c'è c'è troppo troppa letteratura troppa troppi spunti letterari troppa musica troppo cinema troppo troppo di troppo eh io invece volevo che l'autrice si focalizzasse di più sul suo rapporto mh malato con la sua compagna c'è stato ne ha parlato assolutamente sì ma non come eh avrei voluto io non come eh mi sarei aspettata ecco mh solo quello non non mi ha convinto e comunque credetemi quello era la parte centrale comunque sia del 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 memoir no io mi aspettavo più quello rispetto a ehm i spunti di riflessione su ehm quello che la letteratura quello che la letteratura il cinema eh nel corso eh degli anni ci ha eh ci ha fatto vedere eh ad esempio ha parlato di Rebecca la prima moglie oppure ha usato dei termini purtroppo che io conosco benissimo perché eh li ho li ho passati eh ad esempio il gaslighting ehm è un termine mh ultimamente un po' troppo abusato non so se eh l'avete mai sentito parlare il gaslighting è quel metodo che si usa per eh far pensare il proprio compagno far credere che il proprio compagno sia sia pazzo sia fuori di mente ehm ad esempio a me eh il mio ex compagno mi eh nascondeva le cose e io quando li cercavo dicevo ma come l'ho messa lì no l'ho messo quella cosa lì e lui diceva ah ma no ma vedi non ci stai più con la testa ma tu sei matta ma tu sei scema ma cosa pensi ecco il gaslighting ve l'ho spiegato è un pochino è un po' è un po' così eh quindi interessante questo comunque ha detto ha dato nozioni che personalmente conoscevo quindi non non ha aggiunto nulla io volevo che spiegasse meglio il rapporto che ha avuto malsano brutto torbido eh con la la compagna c'è stato eh ne ha parlato a volte anche velatamente e questo l'ho apprezzato soprattutto quando si parlava di violenza verbale ehm però mi aspettavo qualcosina in più ecco quello sì poi veniamo ad un libro che mi è stato inviato dalla casa editrice in modo particolare dall'autrice di Daniela Malpeli cuore all'ombra per book a book allora io con questo libro ho avuto una un odio micidiale nel senso cioè guardate il font cioè un carattere veramente minuscolo minuscolo capitoli lunghi minuscolo cioè no io ve lo faccio rivedere perché è veramente una cosa per carità compatto questo si potrebbe anche portare in giro in borsa per l'amor del cielo ok ma veramente un font cioè così proprio minimal veramente l'unica cosa positiva è che è un bel bel inchiostro nero per cui non era così poi così leggibile mi è arrivato dalla dalla casa editrice quando ho visto il font vi dico la verità mi sono spaventata perché di questo libro non so quando lo leggerò perché è veramente scritto piccolo poi cos'è accaduto il fine settimana un fine settimana io aspettavo l'arrivo di un altro di diversi libri da delle case editrici tra cui questo qui che vi mostrerò dopo per cui dico vabbè non mi vado ad iniziare altro dico sapete che c'è da una sbirciatina a questo complice il fatto che io il fine settimana perché mi segue su instagram lo sai aggiornamenti in macchina della domenica perché il sabato e domenica io il pomeriggio più tre volte la maggior parte delle volte sto in macchina a leggere per diverse motivazioni che ovviamente non vi sto qui a raccontare per stare in silenzio nella pace e tutto vi dico iniziato domenica domenica sabato pomeriggio l'ho finito domenica pomeriggio cioè letto praticamente si può dire in un giorno ok ma veniamo un pochino alla storia cuore all'ombra è in realtà la storia della di una protagonista che decide di non vuole più vivere vuole fare un gesto un gesto estremo questo gesto estremo lei lo valuterà tantissimo vedrà tantissimo se è il caso di di farlo di non farlo impiegherà praticamente una settimana lei è convinta ad esempio oggi è domenica per dirvi no oggi è domenica io domenica prossima non ci sarò più questo decide lei praticamente vuole vuole farla finita per la vita per una vita a lei oscura insipida che sicura che non le darà niente cosa accade accade che nel corso di questa settimana incontrerà dei personaggi che hanno fatto parte in bene o nel male della sua vita rincontrerà poi sua madre come se volesse dare il saluto finale no però poi scatterà un qualcosa non vi dico nient'altro perché comunque non voglio spoilerarvi troppo del libro ci mancherebbe solo una lettura leggera vi dico la verità nonostante le premesse nonostante quello che vi sto raccontando io l'ho trovato una lettura comunque sia di intrattenimento non carina se vi piace il genere volete una lettura che comunque vi 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 faccia trascorrere come posso dire no delle delle ore piacevoli perché comunque per carità la scrittura è fluida è scorrevole il libro secondo me è valido però non c'è non è che ti fa gridare voglio dire alla meravigliosità voglio dire ecco però una bella una bella lettura vi dico ci ho passato altrimenti non l'avrei non l'avrei terminato mi conoscete non è perché me l'hanno inviato devo per forza finirlo non è così non l'avrei terminato perché comunque sei curiosa di sapere se la protagonista alla fine compirà quell'atto oppure cambierà idea perché fino alla fine insomma stai abbastanza in sospeso quindi ne consiglio assolutamente la lettura ecco nonostante il font è un po' un po' così altro libro che mi ha un po' delusa è il libro che mi ha inviato la casiditrice a Fiori però devo ringraziare Irene la detta d'ufficio stampa della Perrone perché a Fiori altro non è che una creazione una spalla della Perrone editore quindi devo ringraziare Irene dell'ufficio stampa quindi grazie ancora a Irene per questa possibilità Tommaso Agnese un uomo ordinario opera a Fiori 20 euro un libricino di 170 pagine che io a più delle orecchie ho divorato in un giorno iniziato la mattina l'ho terminato la sera alle 5 e mezza cioè un libro che si divora divora perché vuoi sapere assolutamente come va a finire è un noir fonte medio ma i capitoli sono veramente brevissimi per cui anche per questo complice sicuramente la lettura invoglia si divora mi è piaciuto assolutamente sì è un bel noir è scritto bene interessante e come già vi ho detto ti invoglia a a sapere come come va a finire un uomo ordinario altro non è la storia che è di Nino un ragazzo 35enne se non erro che fa una vita semplice non ha più la mamma va al lavoro lavora è un analista va vive solo vive solo quindi lui la mattina lavora fin quando accade un qualcosa ci sarà un omicidio e lui diventerà l'unico colpevole ma è innocente questo lo dico perché ovviamente è scritto nella trama nella quarta di copertina lo trovate scritto lui è innocente e farà del tutto per trovare lui stesso il vero il vero assassino ma lui è veramente un personaggio lo ha trovato di una tenerezza disarmante cioè veramente lui è è carinissimo è dolce è sempre stato un uomo solo un uomo abitudinario un uomo che ha vissuto per tanti anni solo con la mamma che ha avuto delle brevi esperienze con le donne uno che sa poco della vita veramente questo mi è piaciuto tanto davvero il finale ti lascia la mano il finale è spiazzante spiazzante perché non ve lo posso dire pensate una cosa e invece accade tutt'altro quindi è davvero davvero un peccato ecco che finisce in un certo modo però state sempre lì anche in questo libro con il fiato sospeso perché comunque c'è suspense vuoi sapere come va a finire io sono contentissima perché la casa editrice appunto me l'ha Irene in questo caso me l'ha me l'ha mandato sono troppo contenta di averlo letto se come me amate Noir questi un po' veramente io non so io l'ho letto in un giorno può essere che voi ci impiegate un po' di più può essere pure anche in mezza giornata perché è comunque ti acchiappa è un libro che veramente ti acchiappa niente ho terminato anche questo video che ho visto molto lungo perdonatemi niente fatemi sapere cosa devo cambiare affinché guardiate di più i miei video perché i bra pappa almeno io e book haul ho attenzione di farne uno ma non sono convinta perché io vedete come mi arrivano i libri li leggo subito non lascio aspettare troppo al massimo 20 giorni perché è inutile lasciare macerare i libri che poi quando poi li rivedi dici oddio cosa cavolo so ho comprato cioè veramente forse fanno una tbr ora vediamo un pochino come organizzarmi però fatemi sapere come volete che imposti che vi parli dei libri parli dei libri singoli oppure fatto così fatemi sapere io accetto tutti i vostri consigli giù nei commenti ok e soprattutto fatemi sapere cosa avete letto voi ecco un bacio alla prossima ciao ciao